Un saluto a tutti gli amici da spettatore, siamo arrivati, è il momento di andare a vedere cosa è successo Vi ricordate che c'era una busta da mettere fuori per un qualche motivo? Non mi ricordo il motivo ma ho lasciato la busta fuori, quindi andiamo a vedere Qui c'è la busta E vediamo, non è come l'ho messa io Cacchio Ok si è aperto Eccoci la nostra stanza magica Chiudiamo Qui c'è un po' di luce E si è bene, si avevo già appoggiato la roba Quindi mettiamoci qua Appoggiamo Bene Luce Si accende da qua? No Si accende da qui? Si accende da qui? Ecco qua Che cosa c'è qua dentro? Ah Scrana Appoggiamo Che cazzo è? C'è una tonnellata di caramelle gommose Cosa? Cosa? Prenotatevi Prenotatevi perché potreste riceverle a casa Ehm Scrivete il numero Al numero di sovraimpressione Ehm E Prenotatevi nei commenti Per Cosa? Ciao 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 Ciao